Fondi aggiuntivi per 1.500.000 euro per la realizzazione di tre nuove palestre scolastiche e quanto assegna alla provincia di Perugia il decreto del ragioniere generale dello Stato dell'11 agosto a seguito della richiesta di accesso al fondo opere indifferibili da parte dell'ente. I progetti che beneficeranno di queste ulteriori risorse sono quelli relativi alle nuove palestre scolastiche di Perugia, fra cui quella di Città di Castello in via Bruno Buozzi. L'ulteriore somma si va ad aggiungere, come precisa la consigliera provinciale delegata Erika Borghesi, agli oltre 56 milioni di euro già assegnate dal PNRR alla provincia di Perugia per le opere di edilizia scolastica e consentiranno di fronteggiare l'eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delegale per le nuove opere. I lavori per le palestre sono finanziati dall'Unione Europea tramite Next Generation Way attraverso diverse linee di finanziamento. L'intervento di Città di Castello è rivolto a fronteggiare la carenza di palestre scolastiche per alcuni istituti di istruzione superiore. In particolare si prevede che la nuova palestra soddisfi le esigenze dell'Istituto Agrario Patrizzi, del Liceo Primo e Giovani, dell'Istituto Tecnico Franchetti, che attualmente non dispongono di una propria struttura.